Gli era stata rubata la bicicletta in via Parata a Treviso, una pinarello del valore di 500 euro. Così alla vittima, una 51enne residente in città, non era rimasto che denunciare il furto ai carabinieri. Ma la donna non è rimasta con le mani in mano ed ha iniziato una ricerca sui siti. Puntuale e continua ha navigato fra gli annunci economici, fino a quando la sua attenzione è stata attirata da una bici, la sua. Sorpresa ma anche felice, la 51enne ha subito avvertito i carabinieri. Gli uomini del nucleo radiomobile di Treviso hanno fatto i primi accertamenti e la bici era proprio quella della donna. Non ci è voluto molto a risalire a chi aveva postato l'annuncio. Si tratta di un 17enne di Treviso, fra l'altro il ragazzino aveva pubblicato la vendita della bicicletta proprio tramite il suo cellulare. A nulla sono osservite le giustificazioni del giovane. Così è stato convocato in caserma assieme ai genitori, per lui è scattata la denuncia per ricettazione, la bici restituita alla donna. Ed un altro adolescente è finito nei guai con la stessa accusa, ricettazione. Si tratta di un 18enne di Pieve di Soligo. È stato trovato dai carabinieri di Cison di Valmarino in sella ad una bici rubata, sempre del valore di 500 euro, ad un operaio bosniaco 44enne che ne aveva denunciato il furto. Anche in questo caso la bici è stata restituita al gittimo proprietario e il ragazzino è stato denunciato in stato di libertà. Ed ancora un'altra bicicletta ritrovata, questa volta a Monastier. I carabinieri di Silea sono intervenuti su richiesta di una donna di 53 anni che la sera prima aveva notato un uomo in sella alla sua bicicletta di cui aveva denunciato il furto. I militari dell'arma hanno identificato e denunciato per ricettazione l'uomo della Guinea, 27 anni, riuscendo a recuperare la bici e restituirla alla vittima.